La stagione della raccolta agricola è alle porte, si lavora per coniugare il lavoro dei braccianti con legalità e esigenze sanitarie. Temi su cui oggi il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha riunito il tavolo anticaporalato. Sentiamo Giovanni Rivelli. Un punto salute stabile e tampone preventivi a tutti i braccianti che saranno ammessi al centro d'accoglienza e in allestimento all'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. Di contro nessuna certezza su una campagna vaccinale straordinaria, tema legato al commissario nazionale Figliuolo e alle linee di Regione e Asla. Oltre alle esigenze di accoglienza e legalità, il tavolo anticaporalato riunito questa mattina dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si è dovuto misurare con una sfida in più, quella sanitaria legata alla pandemia. Per essere ammessi in questo centro di accoglienza bisognerà essere sottoposti al tampone perché occorre evitare che si crei una diffusione del contagio. E per evitare che i braccianti siano lasciati agli accampamenti di fortuna in cui prosperano i caporali e il virus non conosce ostacoli, il prefetto ha spronato tutti i soggetti al tavolo a fare la propria parte. Un invito preceduto da una buona notizia. L'autorità del programma operativo nazionale Legalità ha emesso il decreto che finanzia con 2 milioni e 750 mila euro il progetto della Regione di costruire un centro accoglienza a Contrada Boreano di Venosa. Un buon risultato, ma che per i tempi dei lavori non risolve i problemi della stagione alle porte. Evidentemente quest'anno dovremo, come negli anni decorsi, operare in emergenza.